Un saluto dal Tg della mobilità varato dal Campidoglio, il piano natale per i trasporti. In primo piano si evidenzia la possibilità di viaggiare gratis nelle giornate dell'8, 11, 18 e 24 dicembre sull'intera rete di bus, tram e metro, giorni in cui quindi non sarà necessario il biglietto. Tre linee, inoltre la Centola, Fri 1 e Fri 2, saranno sempre gratuite dall'8 dicembre all'8 gennaio. La rete dei bus diretti verso il centro e i centri commerciali sarà potenziata a dicembre nei giorni 8, 10, 11, 17, 18 e 24 e poi dal 6 all'8 gennaio dalle 10 e 30 alle 20 e 30. Nello stesso periodo la linea 119 sarà estesa anche ai festivi. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.